Recensione di Asus Zenfone 2 versione 5 pollici. Riuscirà a sfatare il mito di Maio Moto G? Scopriamolo! Eccoci con Asus Zenfone 2. Partiamo dalla confezione. Veramente molto ricca perché comprende un cavo micro USB USB, il caricabatterie da 1.35A e delle ottime cuffie in e-air con cavo anti-ingarbugliamento. Questo è il telefono, nel frattempo lo accendiamo. Le dimensioni 148,1 x 71,5 x 10,9 mm di spessore, il tutto per 155 grammi. Non è leggerissimo però molto compatto. I materiali, qui abbiamo una sorta di gomma dietro. Sono assemblati veramente molto molto bene, non c'è nessun tipo di scricchiolio e in mano si tiene comodamente. Andiamo a togliere la scocca, anche questa molto rigida, ha un buon attacco. Sotto troviamo la batteria da 2500 mAh integrata, slot microSD e slot microSIM. Qui abbiamo la cam da 8 megapixel con flash LED che permette di effettuare i filmati fino a 1080p a 30 fps e il bilanciere del volume. Andiamo a chiuderla. Sopra abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, molto scomodo, però per fortuna c'è la possibilità di effettuare il doppio tappo sia per spegnere che per accenderlo, quindi andremo ad utilizzarlo rare volte. Il jack della cuffia 3,5, sotto slot della microUSB, lato sinistro e lato destro completamente puliti. Si sta ancora accendendo, vi parlo comunque del display, un'unità da 5 pollici, risoluzione 1280x720 per una densità di pixel di 294 ppi. Cam frontale a 2 megapixel, c'è il LED di notifica e i tasti purtroppo, questi qui soft touch, non sono retroilluminati, quindi di notte dovrete andare un po' a memoria. Questo è il telefono, partiamo subito dalle immagini test per farvi apprezzare la bontà del display che, essendo un, tra virgolette, quasi un solo HD, è veramente un ottimo pannello. Andiamo nelle immagini test, come vorrete vedere la palette di colori viene riprodotta molto bene, i bianchi non sono per niente male, i neri, parliamo di un IPS, non sono assoluti ma discreti anche questi, altra palette colori e queste ve le faccio vedere dopo per parlarvi nel focus della fotocamera. Questa è la home, come ci viene presentata, le possibilità di personalizzazioni che Asus ci mette a disposizione sono veramente infinite. Tenendo la motora qui si accede a tutte le possibili impostazioni che possono essere l'andare ad inserire app e widget, il modificare la pagina, cambiare lo sfondo, addirittura poter modificare solamente gli compacs all'interno della home, quindi cambiare con quelli preinstallati o addirittura scaricarli di compatibili che sono gli stessi che possono essere applicati ad esempio a lancer alternativi come Nova o Apex Lancer e così via. Possibilità di andare a cambiare gli effetti di scorrimento come tra quelli più classici come il capovolgi, il girevole, quindi diciamo quelli già visti ad esempio in Nova, la possibilità di accedere allo store dei temi che per adesso è molto scarno ma si sta arricchendo sempre di più, per scaricare temi che andranno a cambiare in maniera più o meno rilevante l'interfaccia di base come ad esempio il pannello delle notifiche, la possibilità, il colore delle applicazioni, il tema dell'icone eccetera eccetera. Le preferenze ovvero andare ad impostare ad esempio la dimensione della cartella, come visualizzare l'icona all'interno della cartella ad esempio per tre file, tre colonne in stile carosello, A3 sullo sfondo, in stile lollipop eccetera eccetera. Cambiare il colore delle scritte delle icone, quindi andarle a modificare anche su una gamma cromatica molto ampia, mettiamo quello di base e selezionare il font ovvero andare a cambiare il font delle scritte all'interno di tutto il telefono che sono veramente tantissime, si possono scaricarne anche degli altri, la dimensione del font anche, quindi veramente tantissime le possibilità di personalizzazione di questo Asus. Inoltre Asus si mette a disposizione tantissime applicazioni preinstallate, diciamo tutte più o meno utili, abbiamo l'autostart manager che diciamo è una sorta di cleaner per andare a pulire quelle applicazioni che non sono, che vanno a occupare memoria inutilmente, quindi andrà a fare un check tutta la memoria e pulirà la cache e altri file temporanei non indispensabili. È appunto rapido, permette di prendere appunti in maniera rapida tramite la scritta, tramite tastierino o tramite, adesso non so perché, devo scrivere qui, tramite lo swipe, quindi molto comoda questa. Inoltre il backup per effettuare il backup su il cloud di Asus, aggiornamento del sistema che ci permette di andare direttamente nella pagina per aggiornare il telefono, non so perché penso sia un bug, mi risulta sempre un aggiornamento da effettuare ma non c'è. Do it later, sempre una sorta di app per prendere appunti ma un po' più in stile OneNote per intenderci. Gestione file che sarà il classico file manager. Il meteo. Mini movie, molto carina, vi permette di effettuare una sorta di slideshow con le foto che avete a disposizione all'interno del telefono, quindi magari, adesso vi prendo queste qui di testa tanto per farvi vedere, un sorta di slideshow molto carino che potete personalizzare in molte caratteristiche. Quindi molto molto carino questa applicazione. Poi abbiamo la modalità bambini che andrà a semplificare il telefono, una sorta di interfaccia facilitata, quindi la faciliterà veramente di tanto, faciliterà davvero di tanto l'utilizzo del telefono. Party Link che in pratica vi permetterà di connettervi con vari dispositivi sotto la stessa connessione Wi-Fi e di condividerne le immagini automaticamente, senza il bisogno di condividerle manualmente. Pitch Link vi permetterà di effettuare un mirroring del telefono direttamente dal PC. Poi abbiamo My Asus, che è una sorta di applicazione che vi permetterà di mettervi in contatto direttamente con un servizio clienti, di tracciare la vostra riparazione qualora mandasse il telefono in assistenza, di contattare direttamente Asus e di mostrare le vostre notifiche ad Asus, i vostri messaggi inviati ad Asus. C'è la radio FM, c'è il registratore vocale già preinstallati, Remote Link che vi permetterà di utilizzare il vostro telefono come un telecomando per PowerPoint o altri simili programmi. Share Link che vi permetterà di creare un file e di condividerlo senza connessione rete Wi-Fi o mobile. Molto molto carina anche questa. Il risparmio di energia settabile su tre categorie. Risparmio di energia massimo è il classico di Lollipop, l'ottimizzato che andrà a ridurre le prestazioni del processore in modo da ottimizzare la batteria oppure personalizzato dove potremo andare a gestire vari parametri come ad esempio la luminosità, l'attivazione automatica oltre una certa soglia e quali tipi di applicazione mantenere in uso sotto notifica. Abbiamo lo specchio che va ad attivare la fotocamera anteriore per permetterci appunto di specchiarci. Splendid che è una sorta di gestione di taratura del colore del telefono, quindi andrà a tarare a nostro piacimento il display. Super Note è sempre un'applicazione, in questo caso in stile Google Keep per prendere appunti, molto copiato, abbastanza copiato. Supporto Asus, un'altra applicazione ci permetterà di avere supporto direttamente da Asus e addirittura consigliare magari per aggiornamenti futuri delle chicche da inserire all'interno del telefono che verranno votate e verranno prese in considerazione in un eventuale update. Lo store dei temi che abbiamo già visto, la torcia, il trasferimento dati che vi permetterà di trasferire più o meno dati da molti altri telefoni, ad esempio Huawei, Apple, Samsung, Lenovo, Xiaomi, ZD, insomma tantissime marche di telefoni al vostro nuovo Asus. Mi vorrei soffermare un attimo sul display per farvi notare che anche se impostato all'aluminosità massima il display, magari adesso non lo noterete ma in condizioni di scarsa luminosità, non è luminosissimo. Ho visto display su questa fascia di prezzo più luminosi ma comunque parlando pur sempre di un telefono che si attesta sulla fascia medio-bassa non mi lamento per niente. È un attimo rimasta aperta la scocca. Torniamo nella galleria e vi voglio parlare di queste immagini che ho scattato perché il cellulare prevede all'interno della fotocamera di applicare un'impostazione che si chiama Taria Notturna che va a fare un downgrade della fotocamera, la porta a 2 megapixel ma vi permette di aumentare la luminosità delle foto in condizioni di scarsa luminosità senza l'uso del flash. Questa è scattata senza l'uso del flash con la modalità automatica, questa è invece scattata con la modalità notturna senza l'uso del flash. La definizione va un pochino a perdersi ma ne guadagna tantissimo la luminosità. Stessa cosa, questa è effettuata con lo scatto in modalità notturna senza ausilio del flash. Le condizioni di luminosità erano pressoché queste qui che vedete in questa foto. Quindi veramente molto molto smart questa funzione. Questa è una foto scattata invece in un corridoio abbastanza illuminato. Non è molto definita ma da 1.8 megapixel su questa fascia di prezzo non mi aspetto certo dei miracoli. dovevi far vedere anche una macro scattata. Questa è venuta molto bene. Devo dire niente male. Questa invece è una foto scattata a un concerto quindi con condizioni di luci abbastanza critiche e questa in condizione, un panorama in condizioni di luminosità scarsissime. Vi faccio vedere come funziona l'applicazione della fotocamera. Prendiamo Luigi. Allora ho attivato la fotocamera frontale. Ok. La messa a fuoco è molto rapida. Ok. Anche lo scatto è abbastanza rapido. Un voto che darei la fotocamera è un 6, un 6,5. Non è sicuramente una fotocamera che userei tutti i giorni ma tant'è che a questo prezzo non si può davvero chiedere di tanto. Intanto le impostazioni sono moltissime. Cambiare i valori dell'ISO, dell'esposizione, la risoluzione della fotocamera in 6 megapixel a 16.9 oppure 8 megapixel in 4 terzi. Video, qualità del video in Full HD. Presente la stabilizzazione ottica ma soltanto a 720p. Quindi vi andrà ad abbassare la risoluzione automaticamente quando attiverete la stabilizzazione. Attivare la griglia, la durata di riproduzione. Quindi veramente tantissime le impostazioni all'interno dell'applicazione di Asus. Inoltre ci sono queste che sono le scene preimpostate ovvero l'HDR, il ritocco fotografico, luce bassa che come dicevo abbassa a 2 megapixel la fotocamera ma ne aumenta la luminosità. La profondità di campo, i vari effetti, creare delle gift, delle miniature, il timelapse. Quindi molto molto ricco anche troppo l'applicazione delle fotocamera di Asus. Andiamo a vedere la memoria del dispositivo. Abbiamo 16 GB in questa versione del telefono di cui disponibile all'avvio sono circa 11. Tantissima la quantità di amore disponibile per la fascia di prezzo. Inoltre abbiamo 2 GB di memoria RAM e il processore è un Intel Z2560, lo stesso identico processore che avevamo su Asus Zenfone 5, che è una sorta di dual core ma ogni core ha due mini core e quindi sfrutta una tecnologia chiamata Hyper-Streeting e lavora il tutto ad una frequenza di 1,6 GHz. Vediamo come si comporta il racing. Nel frattempo che carica? Vi parlo della batteria, 2500 mAh. Potrebbero non semplare tanti ma vi posso garantire che mi ha portato tranquillamente in ogni condizione a fine giornata. Lo tengo sempre con uno smartwatch connesso nella fattispecie smartwatch 3 della Sony che recenseremo a breve. Lo utilizzo molto, magari mentre sono in pausa pranzo al lavoro, quindi molto internet, sempre notifiche accese, bluetooth sempre acceso. Per metà giornata anche LTE avviato. Devo dire in quasi tutte le occasioni a fine serata con all'incirca un 15-20% senza attivare il risparmio energetico. Ok, dettagli sia nello specchietto, nei dettagli in entrambi gli specchietti, non al massimo però visibili. Come vedrete il frame essendo comunque solo un dual core è molto stabile. Si gioca veramente molto molto bene. Ho provato anche altri giochi come ad esempio Hearthstone, il gioco di carte collezionabile di Blizzard. Anche lì nessun tipo di incertezza. Vedete, un frame sicuramente non elevatissimo ma senza incertezze rilevanti. Via Racing si lascia giocare tranquillamente molto molto bene. Ok, usciamo. Presente il browser stock, andiamo a vederlo. Molto funzionale, addirittura ha il resize del testo. Nel frattempo Repubblica era già caricato. Andiamo a caricare la versione desktop. No, mi carica ancora la mobile. Riproviamo così. No. Repubblica. Ok, ci dovremmo essere. Ok. Atteniamo che finisca di caricare. Nel frattempo lo scrolling è molto molto veloce. Nessun tipo di incertezza. Pinch in molto veloce. Entriamo in una news. Vedete? C'è il... Mi sa che ho aperto una news per sbaglio, no. Ho fatto un rendering della pagina nuovamente. Ok, entriamo nella news. Sì. Ancora questa. Whatsapp non la vuole sapere di darmi tregua. Ok. Vediamo come si comporta il resize. Qualche incertezza ma lo sto stressando veramente tanto come state vedendo e comunque è sempre molto molto fluido. Ok. Ancora Whatsapp non la vuole sapere di farla finita. Non so perché non mi effettua il resize. Sulle altre pagine... Ok, adesso lo sta effettuando molto lentamente. comunque la Repubblica è un sito molto molto pesante. Comunque, chiudiamo il tutto. Android è la versione 5.0. Quindi diciamo tutto quello che ne comporta. Il spam energetico, la gestione delle notifiche espandibili. Qui tutti tolgo rapidi come ad esempio il funzionamento da mano che è attivabile tramite un doppio tap tramite il tasto home. Andrà a fare un resize dell'interfaccia a nostro piacimento per utilizzarlo al meglio con una mano. Vi faccio vedere la versione di Android. La 5.0.1 per l'esattezza. Con la Zen UI. Mi sembra di avervi detto tutto. Parliamo giusto del client messaggi. Vi faccio vedere quello suo. Stavo caricando Messenger per sbaglio. eccolo qui. Ok. Allora. Scriviamo un nuovo messaggio. Ecco qui. Allora. Questa qui è la tastiera proprietaria. Se decide di caricarla, quanto pare, riproviamo. Ok. Questa qui è la tastiera proprietaria di Asus. Veramente molto molto comoda. Non prende... non sbaglia quasi mai un colpo. Molto veloce, reattiva. Il correttore automatico è sempre molto molto di aiuto. Quindi sul fronte tastiera e messaggistica ottimo. Il client messaggi carino. Niente di... che non è... di non... di nuovo insomma. Ma comunque gradevole nel complesso dell'interfaccia. La ricezione anche questa molto buona. Qui nel mio solito paesino sperduto dalle montagne addirittura adesso la ricezione è piena. Non ho mai... mi sono mai trovato in situazioni dove la ricezione venisse a mancare. Buono lo speaker. Non elevatissimo. Manca un po' di corposità nei bassi. Tuttavia è posto dietro sulla sondatura e quindi poggiandolo su di una base piana non andrà ad attenuarsi in nessun modo il suono. Ok. Vi faccio sentire come ultima cosa lo speaker con la musica. Facciamo partire stroma eh. Cerchiamolo. stroma eh. Ok. stroma eh. stroma eh. Ok, direi che può bastare, basta strome, ci ha diriziato abbastanza. In conclusione, come detto in apertura, andrà a sfatare il mito di Moto G? Sì e no. Diciamo che sicuramente la dotazione hardware è molto più elevata di Moto G, abbiamo in questo caso ha lo stesso prezzo di uscita, ovvero 199 euro di Moto G, 16 GB di memoria, l'LTE, 2 GB di RAM anziché una e un processore non certo nuovissimo, il tutto con Android 5.0.1 a bordo. Sicuramente Motorola ha fatto maggior tesoro dell'ottimizzazione, quindi permette di far girare tutto il sistema operativo in maniera molto molto fluida, anche se a livello magari di memoria RAM e di memoria è meno performante di questo Asus, ma mi sento tranquillamente di consigliare sulla base di 199 euro o addirittura meno, 179 euro, la versione 8 GB, questo Asus Zenfone 2 che mi posso tranquillamente dire che è meglio di Moto G. Un saluto da Gianluca, per Kickpros è tutto.